Il 1 febbraio 2016 sarà una data importante per la Corcos Industriale che cambierà il suo nome in Freudenberg Sealing Technologies. Insieme con noi c'è l'amministratore delegato Philippe Krulis. Che cos'è la Corcos oggi? La Corcos Industriale è una società di una multinazionale tedesca che viene chiamata Freudenberg e ingloba più stabilimenti del nord Italia che sono focalizzati sulla produzione di guarnizioni di tenuta per il mercato automotive e industria generale. La Corcos Industriale impiega circa un migliaio di dipendenti di cui il 90-95% provengono dall'area di Pinerolo e di Luserna. Quale ulteriore evoluzione avrà la Freudenberg Sealing Technologies in Italia? Sicuramente continuerà a mantenere un ruolo di spicco nel gruppo. Come ho detto prima abbiamo tantissime relazioni con diversi paesi, fa parte dell'ordine del giorno. Quindi uno può passeggiare tra gli uffici e vede il collega che parla con la Cina, al contempo un altro che è ingaggiato con una conversazione in India. Poi si cambia fuso orario, si passa invece agli Stati Uniti, molte relazioni europee, quindi Francia, Germania, Turchia, Ungheria. Quindi questo aspetto multinazionale, multiculturale è proprio presente e lo si può assolutamente notare nei vari uffici. Quindi questo ruolo continuerà a rimanere. Che cosa cambierà? Dunque, non cambierà nulla, nel senso che noi manterremo sicuramente vivi i nostri principi, che sono stati quelli che abbiamo acquisito nella storia della Corcos, che abbiamo ereditato, e che sono gli stessi in cui la società stessa, Freudenberg, crede. Quindi questo rimarrà lo stesso. Sicuramente nasceranno ulteriori opportunità, opportunità per l'ambiente locale, per la comunità di Pinerolo e di Luserna. La fiducia che i nostri manager hanno acquisito negli anni è fonte di successi che sono arrivati nel tempo. Un successo dopo l'altro, che non ha fatto altro che consolidare questa fiducia. Ed è ancora, continua ad esserci ed è dimostrata dagli investimenti che il gruppo continua a fare qui, specialmente tra Pinerolo e Luserna. Quindi le opportunità continueranno a essercene ancora di più. E sicuramente anche per i giovani il potere essere inserito nell'ambito del lavoro, nell'ambito di una multinazionale, è sicuramente molto attraente. E noi puntiamo molto sul ritenere i giovani talenti e anche puntiamo molto sull'acquisire nuovi talenti. Quindi sicuramente chi è in cerca di una forte visibilità e chi è in cerca di sfide globali, questo è il suo posto.